Gli hanno strappato dal polso un Rolex d'oro da 35.000 euro e sono fuggiti. È accaduto a Forte dei Marmi, località non nuova a questi episodi. Ma in questo caso la banda, si tratta di quattro persone, tre uomini e una donna di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Genova durante un controllo di routine alla richiesta dei militari di fornire i documenti. I quattro ne erano sprovvisti, da cui la perquisizione di alcune borse presenti nell'auto, dove sono stati trovati abiti con dei cartellini ancora attaccati. Scoperto anche il Daytona in oro, di cui la donna non ha saputo giustificare il possesso, immediatamente è stata avviata un'indagine a seguito della quale si è appreso che qualche ora prima il prezioso orologio era stato rubato proprio a Forte dei Marmi. Durante il controllo è stata trovata anche una carta d'identità francese contraffatta, con false generalità.